Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Juventus Kylery 2 a 0 Allora, ieri finalmente abbiamo fatto una partita decente Abbiamo fatto una partita che meritava di essere commentato in un modo positivo Praticamente ieri Ronaldo ha fatto la doppietta Bellissimi gol, il primo gol è stato bellissimo Due finte e poi tirato nell'angolino Praticamente bellissimo Poi il secondo con un gol praticamente facile 2 a 0 Potremmo fare più chance Praticamente segnando con Guardado, Bernardeschi Ma la cosa importante, sa qual è? È che abbiamo vinto la partita in un modo abbastanza dominante Speriamo che giocando in questo modo possiamo battere squadre come Milan, Inter Queste squadre può anche se facciamo uno sbaglio perso la partita Quindi se giochiamo in questo modo contro le altre squadre Vinciamo sicuramente le partite Ronaldo è stato praticamente sformidabile stato Che è stato scottato lui Senza di noi siamo praticamente 0 Siamo 0 senza Cristiano Ronaldo Lui praticamente costruisce la Juventus In un modo mai visto In un modo mai visto lui costruisce la Juventus Adesso la nostra prossima partita è contro il Ferencvaros a Torino All'Evento Stadium Che secondo me vinceremo tranquillamente Ma poi dopo quella dobbiamo giocare contro il Benevento a Benevento Quindi questa cosa già mi preoccupa un po' Andrà a giocare fuori casa dopo una partita di Champions League Però sono convinto che ce la possiamo fare qualunque il caso Abbiamo vinto praticamente 2 a 0 in un modo bellissimo Giochiamo in casa sì Il Cagliari non è una grandissima squadra Tutto rispetto per il Cagliari Ma non è tanto forte il Cagliari Come a noi Però il Benevento ha vinto 1 a 0 contro la Fiorentina Quindi questa cosa la volevo dire Che quando vuole il Benevento può farci male Però sono convinto che vinceremo lo stesso Perché siamo praticamente un po' più forti Anzi molto più forti del Benevento E secondo me vinceremo questa partita Comunque il video di Cagliari è qui Canto mi ha guardato Seleccolo giù nei commenti cosa ne pensate di questa partita Secondo me questa partita era stranitata per la Juventus Non c'era niente del Cagliari Soltanto Juve Peccato ovviamente che non abbiamo sfruttato le nostre chance Perché sicuramente dovremmo pigliare le nostre chance Ma non sono state prese Ma sono contento con il 2 a 0 Cerchiamo di vincere contro la Juventus Cerchiamo di vincere pure contro il Benevento E poi c'è la Dinamo Kiev a Torino E poi un'altra partita E poi il Barcellona al Camp Nou in Spagna Quindi quella là è durissima da giocare Ma se c'è Cristiano Ronaldo contro Messi Oltre ad essere una grande partita E anche una partita 2 è tosta Se vogliamo passare questo giro Ma se giù in un modo schifosissimo E passano il Barcellona e il Dinamo Kiev Per noi andiamo in Europa League Questa scuola è veramente preoccupante Quindi vinciamo questa partita contro il Ferencifano Molto probabile Poi Benevento Poi Dinamo Kiev Poi un'altra squadra E poi il Barcellona Quindi le partite di Champions League Stanno pure venendo abbastanza recentemente Quindi c'è da vincere Da pensare al campionato E la Champions League Comunque Il video single è qui Grazie per aver guardato Possiamo sempre Cerchiamo di vincere Perché il vincere è l'obiettivo di tutti Ciao Possiamo sempre